3 imprese memorabili 3 storie incredibili 3 esploratori dei propri limiti The North Face Speaker Series 2012 torna in Europa il tour che racconta eccezionali storie di esplorazione Praticare il vero alpinismo soltanto con le proprie forze sopportando il dolore, la fatica e le avversità per arrivare dove il cielo è più vicino In nome dell'autentica esplorazione Simone ha rinunciato al suo progetto di salire senza ossigeno supplementare in successione Everest e Lhotse perché crede nel rispetto della montagna Crede nell'alpinismo puro, fatto di coraggio sfida con se stessi e fatica Simone Moro l'unico alpinista ad aver raggiunto tre cime di 8.000 metri in pieno inverno assieme a Denis Urubko ed altri illustri amici raccontano il mondo della montagna oggi presso la Triennale di Milano The North Face Speaker Series 2012 incontra Simone Moro alla Triennale di Milano La Triennale di Milano La Triennale di Milano